ragazzi buon gododei e bentornati incredibile a un episodio dove affronteremo secondo me un nemico che ci farà un bucio così stessa maglietta degli ultimi due episodi ragazzi si lo so avevo promesso che l'episodio scorso sarebbe stato l'ultimo episodio di oggi ma non ce l'ho fatta ragazzi la mia voglia di provare questa boss fight che poi magari io mi sto costruendo muri su muri su muri di niente perché magari qui dentro c'è un tizio rando magari c'è un gigante un drago fotonico ma non c'è la nostra rellana che io mi sto fantasticando incredibile ragazzi quindi su se è carico ragazzi ma anche lui è consapevole che qui si rischia di prendere delle sberle pazzesche ragazzi partiamo perché questo episodio potrebbe essere ridicato solo a lei ragazzi poi magari ci riusciamo al primo try come con quell'altra ovviamente ve lo dico subito ragazzi cercherò di godermi la boss fight per quello che è nella mia prima volta ma concedetemi dato le mie condizioni precarie di un personaggio al 168 che viene non dico bisciottato da qualsiasi cosa ma ci andiamo vicini evocherò l'eda la nostra compagna di mille avventure come abbiamo fatto con la nostra amica freya contro la bestia divina e evocheremo tighe ragazzi quindi ci andremo full cattiveria vedremo se rellana riuscirà a conquistare una furia di sus con le sue due compagne sus e poi ricordatevi ragazzi che canonicamente sus sta costruendo il suo harem quindi qualsiasi gnagna è nei paraggi di sus deve essere immediatamente evocata ragazzi è canon tutto quanto cavaliera dell'ago leda wow è bellissima lei deve essere super forte ragazzi quindi un incontro da waifu abbiamo leda rellana e tike ragazzi sus sarà l'uomo felice del mondo ragazzi 3 2 1 rellana credo wow veramente rellana neanche una cinematic wow mi aspettavo tantissimo una cinematic non mi sono riposato al farò che persona tonta che sono vabbè rellana che ne pensi della marcia scienza sus va bene ragazzi com'è che non fa danno e non ha neanche preso la marcia scienza wow che treno ragazzi wow allora ha un quantitativo di hp che è fuori da ogni grazia del goto veramente ma cerchiamo di fare qualcosa anche noi almeno ah ma è lei che gli lancia quei colpi assurdi wow pensavo fosse lei mamma mia che what the fuck is that bro ma quando gliela facevo da sopra ragazzi parliamone con un personaggio a 300 forse gliela fai vabbè ragazzi siamo morti perchè io da bravo genio non mi sono ricaricato le fiaschette no io posso fare un riposto si 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 e ha pure le doppie spalle alla sullivan la signorina ha preso tutto della sorellina aspetta aspetta dove uccidere la mia amica per favore rellana ti prego signorina mamma mia che spettacolo che è ok meno male che l'eda è un treno mamma mia wow ok non credo riusciremo a sconfiggere al primo try ragazzi perchè noo gemella e quindi può l'attacco che figata è vabbè ci sta a morire ragazzi così non avevo neanche le fiaschette dai va bene va bene così ci sta è di una bellezza sconcertante ragazzi dai va bene così uscitemi pure guarda va bene così sei di una bellezza sconcertante dai va bene così ragazzi va benissimo così se avessi avuto le fiaschette sarebbe morta perchè ricaricavo perennemente la lancia del fulmine bellissima 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 cioè usa l'attacco delle lune ma gemelle perchè evidentemente lei è la gemella di ranni orrendina in ala credo forse non lo so e quindi la fa insieme allora lei si è comportata molto bene è fortissima l'eda ti che se ne è cavata bene se avessi avuto le fiaschette ragazzi è la morta perchè gli cominciavo a spammare le lancia del fulmine però va bene così ragazzi ce la siamo goduta come prima volta bene 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 allora riproviamo a darci cattiva ho visto che ha una resistenza alla marcia scienza veramente notevole la bimba quindi vediamo che possiamo fare allora cerchiamo di andare subito in marcia scienza scarlata e se l'è presa molto bene ok la lancia ok si l'eda è un po' confusa prima era meno confusa adesso è un po' più confusa perchè si è emozionata ok beviamo senti che è spaventata e capisco comunque ragazzi l'eda è un treno la bimba ok ok con calma beviamo è di una bellezza sconcertante sono contento che abbiamo visto prima quegli attacchi sus questo è l'attacco assurdo che fa c'è ragazzi ma di che stiamo parlando devastante wow ok andata wow bellissima rimembranzi della cavaliera da luna gemella bellissimo 180 mila vi ricordo tanto per essere precisi io sto giocando questo DLC sottolivellato a bestia 168 il frammento d'albero d'ombra e cene dello spirito venerato ragazzi siamo ancora tutte due più zero e vi posso dire che tiche comincia a prendere le mazzate quindi la nostra tiche andando avanti verrà non dico shottata dai boss ma più o meno sarà lì e lì sarò io a soffrire come una belva ragazzi altro che sus perché boss futuri secondo me mi shottano però comunque bellissima boss fight la bestia divina alla cinematic iniziale che è veramente bella però a livello di boss fight era figa perché aveva gli elementi non normale ghiaccio fulmine questa però per come sono fatto io ti direi che questa è superiore per estetica per attacchi fa la spatata di fuoco con la UE che scoppia dopo attacco magico l'incantesimo con le tre spatine che ti colpiscono quella spatata che ti fa la UE a cerchio l'attacco con le lune gemelle ragazzi è bellissima la rimembranza di Relana cavale della luna gemella scolpita nell'ambero d'ombra in nata principessa Relana rinunciò ai propri diritti dinastici e scesi gli schialzi a fianco di Mesmer di lì a breve divenne nota come la spada di Mesmer spada di Mesmer lei spada di Michela Malenia e andiamo a vedere che facciamo con la sua anima 9 su 10 vi direi tutte e due le spade sarebbe fichissimo lame accoppiate di Relana dual di spade magiche e la luna gemella wow quanto serve? 72 ragazzi sarà un danno allucinante allora spadone leggero cariano con scintriete blu incastonate amma di Relana cavale della luna gemella armamento composto da due spade impugnate a due mani la spada dritta della fiamma dorata viene stretta con la sinistra quindi sono dual con due elementi e infatti hanno i di split damage magia e fuoco che figata qui è soltanto la luna e il fuoco si congiunsero ah la luna e il fuoco lei e la luna Mesmer e il fuoco carino ma che erano innamorati? postura della luna e del fuoco assume una posa e carica la magia del due spade esegue un attacco normare per lanciare un dati luminose di scintipietra concatenandone fino a due serie di attacchi supplementari esegue invece un attacco potente per sferrare un colpo di fuoco fichissimo ragazzi materializza luna e gemelle sovrapposte che colpiscono il terreno in successione facendo tremare sotto il chiaro di luna spettacolare lei e la sorella maggiore rennala si imbatterono da bambini in queste lune che si sovrappongono come a tenersi strette come va a dire che sono vicine anche se lontane bello elmo decorato di rellana cavaliere da luna e gemella forgiato con l'acciaio argentato si narra che rennala guida della famiglia reale di caria ah ok donò lunghi capelli neri alla sorella minore ok ragazzi wow andiamo avanti l'eda ci ha detto che per trovare michela che è nel posto con le spine d'ombra ci serve una fiamma che però non sappiamo dov'è vuoi vedere che la fiamma per bruciare l'entrata andare da michela è la fiamma di mesmer vuoi vedere che questa è la nostra mission allora trovare mesmer ucciderlo prendere la fiamma e andare qua e poi andare da michela wow altus d'ombra l'albero d'ombra è il riflesso dell'albero madre è normale allora che tutto quello che è sopra c'è un riflesso sotto quindi ha senso che c'è tutto collegamento quindi mi aspetto altre reference dell'interregno qua allora sicuramente non andremo da questa parte ragazzi andremo prima qui sotto e qui sopra però a sto punto voglio parlare con l'eda frammento di albero d'ombra che ovviamente sarebbe questa polverina che cade no? ah attenzione c'è un altro tizio no questo è lo stesso tizio che stava qui che mo' si è spostato non c'è più qua vedi? adesso c'è solo freia lì e lì c'è un tizio a cavallo missiva del monaco vinca il migliore no fammela un po' vedere sta posa che bello che hanno messo pure le pose la nuova posa di sus va bene ma è bellissimo qui abbandono il mio cuore quindi lui sta abbandonando prima il corpo poi abbiamo letto braccio sinistro e adesso il suo cuore parliamo con l'eda signorina che mi dice? ci rivediamo di origine piuttosto eterogente eh infatti tutti diversi non avesse lanciato un incantissimo su tutti noi e certo lui ti prende così senza dubbio l'opera di un vero Dio e certo perché se tu ci pensi ci abbiamo uno che dà una letta a Mog uno che è palesemente un assassino uno che raccoglie le cose e non so chi altro incontreremo tra l'altro sappiamo che a Freyja che faceva parte del gruppo di Radan Michela l'ha salvata perché si era presa la marcia scienza e forse è lì che l'ha ammaliata no? ok chiedite la rado del corno la rado del corno ti inquieta? in altre circostanze ci dovremo guardare alle spalle molto tempo fa la regina Mari coordinò a Sir Mesmer di epurare il popolo della torre è vero un bagno di fiamme non deve sorprendere che la rado del corno abbia in odio l'albero madre d'altronde l'uomo è per natura conquistatore non fa eccezione hanno semplicemente avuto la peggio ma è pur sempre una situazione di problema parliamo con lui va ti sei spostato? che mi dici amico? ah tra l'altro dobbiamo leggere scusami il foglietto una lettera con un breve messaggio e l'illustrazione di un monaco a mani giunte cercami a oriente se desideri perseguire la via del guerriero in quel luogo potrai sfidarmi a tenzone ogni parola è superflua ma non l'abbiamo mai incontrato questo tizio abbiamo incontrato Freyja questo tizio l'eda quello con i vasi e il tizio di Mog il monaco non l'abbiamo mai incontrato noi il tempismo non ti fa difetto ho scoperto il sito di una nuova croce prendi ah lo vedi che ti aggiorna la mappa infatti non ne potevano essere solo quelle tre che ci aveva dato inizio mappa delle croci ricevute controllo l'inventario e beh sono molti di più di prima l'ha detto lo stesso Mink e ora desidera gettare via tutto sostiene che l'atto per quanto doloroso monderà il fuoco e il peccato dell'albero mare ogni croce testimonia la verabilità della sua parola è una prova sufficiente a convincermi allora con calma ragazzi sicuramente non andremo avanti da questa parte anche se c'è la mappa allora intanto mi fa ridere che adesso che ho potenziato questo e stiamo trovando tutti i nemici che sono potenti contro il fuoco ragazzi abbiamo questa strada qua e questa strada qua allora andiamo prima al punto 1 eccolo vedi dobbiamo andare là sotto e in fondo c'è una specie di roba e poi c'è la parte sopra si andrei sotto ragazzi ma ci sono altri amici qua qui non era la zona dove abbiamo combattuto no dove abbiamo combattuto dove si vedevano che c'erano i demoni succhia sangue che appunto se la prendevano con questi mi spiace continuo a dire che mi diverte tantissimo usarla ragazzi nelle giuste circostanze ragazzi c'è una parte di me che vorrebbe andare ancora più lenta ragazzi però sono abbastanza orgoglioso di come sta andando per adesso la run ve lo dico sinceramente io non so per quanto potrà andare questa specie di challenge che sto facendo di non potenziare sus ve lo dico sinceramente perché secondo me arriverà il momento che come dire sarò costretto a farlo però più tardi possibile ragazzi per adesso cerchiamo di non potenziare mai sus e di goderci questa esperienza sus eh no mi piace che interrompe balestra a ventaglio ok balestra modificata composta dall'unione di due balestre ah che figo sembra quella di Gile boss del finale del DLC Dark Souls 3 quante Dark Souls 3 reference ragazzi consente di caricare più tardi di scoccarli contemporaneamente producendo un ventaglio di colpi no è quella che usava il cavolo di cavaliere della galera che abbiamo incontrato nel secondo episodio ragazzi me lo ricordo perché ho editato il secondo episodio poco fa il tizio che l'abbiamo battuto a Perry o il tizio che usava una balestra così ah ma qui è una gran festa questi li avevamo combattuti no? si che avevano zero equilibrio me lo ricordo questi stanno combattendo tanto bene ragazzi facciamoli combattere ma che ce frega a noi sus quando vede gente combattere la lascia combattere insomma perché impicciarsi degli affari degli altri ragazzi ah è una grotta questa afflusso lava delle rovine della forgia ok che nome cazzuto oh grazie giuro che se avete un'altra roccia la troverò questo è certo l'altare della forgia non può essere lontano colpisci dove fa più male ci sono dei fottutissimi golem che devono essere colpiti nel culetto per fargli del male mi fa molto ridere che io ho potenziato un'arma di fuoco e stiamo trovando dungeon di fuoco e nemici con resistenza al fuoco incredibile quindi è stato veramente inutile portarla su ragazzi mi sa che me la levo allora qui ci sono dei golem mai visti ma quanto siete belli scusa ma c'ha pure il vestitino ma sono dei fabbri ma dai ma dai ma non gli ho fatto niente ma com'è sta cosa pietra di gas cioè l'idea è molto figa ma quanto sono duri ah il fulmine lo sento no mi sembrano duri in una maniera allucinante ragazzi mica due di questi quanto cavolo ci metti a ammazzarli scusami ragazzi io sto colpendo la schiena ma non c'è niente da fare forse sbaglio io mi sa non credo che tu ci possa mettere così tanto a eliminarne uno cioè prima ce l'ho riuscito ragazzi abbiamo incontrato il nuovo nemico più difficile di tutto il dering a mano in basse ragazzi è così di fare l'elbow drop ragazzi due di quelli è finita penso perché a meno che c'è un trucco che non ho capito per colpirli prima ma io lo colpivo sulla schiena ragazzi prima me l'ha fatto il riposto poi non me l'ha più fatto sono più difficili dire l'ana sti cosi ma poi è possibile ok ho ricaricato le fiaschette ragazzi perché qui la situazione è sus vabbè questi sono slime non amare può essere che un trucco per colpirli è con le frecce se io gli lancio una lancia del fulmine sul sedere che faccio no ragazzi sono un nemico in assoluto penso più counter a sus della storia proprio a mano in basse se gli lancio una fiamma nera no ragazzi non hanno punti deboli questi cosi secondo me sono deboli con le armi ultra pesanti ho visto che fanno tipo un elbow drop eccolo quando fa questo puoi purgare la tua schiena no vedi sono furbi hanno pure l'attacchino sus simpatico ok ripeto secondo me con le armi ultra pesanti questi proprio gli fai del male cioè ne uccido uno ragazzi poi non credo di ucciderli mai più questi cosi a meno che non è necessario proprio gli schimpiamo tutti con sus questi non è possibile divertenti ma una volta e basta ragazzi se non è necessario non li eliminerò più sti cosi troppo tempo ragazzi ci vuole dai amico mio mi sa che te ne rimani qua mi hanno proprio zero intenzione di eliminarti ragazzone ok qui si scende e qui ce n'è un altro ma quanto siete carini pugnale forgigrafato ho letto bene la massa la massa ridotta potenza gli effetti delle arti di forgiatura consentendo a questa una legge compagnata lancio con tutti gli attacchi che figata è dopo il lancio rappare all'istante nella mano del possessore incompatibile con le cini di guerra che forniscono mi diamo una finita lancio perforante sky armamento con una potente rotazione permettendo di rilassare i nemici di raggiungere distanza maggiore c a destrezza no ti prego fammelo vedere pure questo si era visto nel trailer vabbè ne lancia uno più forte fichissimo bisogna vedere quanto danno fanno però originalissimo e magicamente questo affare di lava e certo ci possiamo salire dal tubo sus tutto canon ragazzi tutto canon questi sacchi assomigliano a quelli che stavano a nocron ma di mamma esami in altare martello incudine e piede da forgettura tra cattivo uno dei tesori dell'orine della forgia micidiale martello sormontato dall'incudine ovviamente della forgia signata che la forma dell'incudine si è ispirata a quella di un altare che in un lontano passato fosse questo il suo uso nel contesto dei ridi rituali ragazzi prossimo episodio andremo avanti incredibile abbiamo questa parte oscura qua e tutta la parte sopra che ci porterà a una zona assurda e poi abbiamo pure la parte nord ragazzi suss che ne pensi di quello che è appena successo sinceramente il vostro suss è senza parole a parte che mamma mia rellana o come di chi mamma mia il vostro suss è innamorato di te mamma mia se guarda suss come punta rellana che purtroppo adesso però non c'è più quindi non potrà più far parte dell'arem del vostro suss ma io vi chiedo ragazzi secondo voi c'hai i piedini più belli ragno rennala suss basta con questi cosi basta suss calmo il capra mi dice di stare calmo ma come faccio a stare calmo con tutti questi gnagni incredibili comunque abbiamo esplorato la forgia e ci sono dei golem suss che per farli male gli devi far male al culetto e abbiamo trovato anche un martello suss che però suss non usa perché suss usa le lanci incredibili comunque episodio glorioso rellana mamma mia e per il prossimo episodio andremo avanti e chissà se incontriamo altri gnagni incredibili o altri cosi incredibili con suss incredibile assurdo questo promette l'ultimo episodio che registro oggi ragazzi che è grose con voi e ci vediamo al prossimo episodio del tearing pazzesco assunto